Episodio 9 di TKinter, oggi parliamo dei frame. Vi avevo già accennato che i frame sono una sorta di contenitore aggiuntivo che possiamo utilizzare per dare ordine. E oggi vedremo effettivamente cosa sono. Se arrivate da HTML vi può aiutare il concetto di div, quindi li utilizziamo per dare ordine, ma si possono vedere e non vedere in pratica. Se non sapete cosa sono i div, non preoccupatevi, non diventate scemi e proseguiamo. Dunque abbiamo sempre la nostra finestra, quello che voglio fare è andare a creare magari 3 o 4 frame, quindi frame1 uguale a frame, eccoci qua. C'è anche il label frame, questo qua che poi vedremo a breve. Quindi frame e quello che vogliamo fare è associarlo a root e gli vogliamo dare un background, ecco qua, magari red. Tanto che ci siamo gli aggiungiamo anche del padding, quindi magari mettiamo padding x10 e padding y non facciamo 50. E per completare il tutto gli andiamo a mettere un'altezza, ecco qua, altezza 100 e magari width 200. Perfetto, l'ultima cosa che ci rimane da fare è effettivamente mandare a schermo il nostro frame. Lo potremmo mandare a schermo come grid, anche se non ve lo ancora spiegate, ma andiamo a schermo con pack. Quindi salviamo, vediamo un po', e vedete qua che abbiamo questa sorta di container. Chiaramente le dimensioni sono relegate a quello che abbiamo detto qua, in realtà potremmo espandere il tutto, anche se non ve l'ho ancora fatto vedere, con fill, magari sulla x, bisogna dirgli di espandersi da qualche parte, e poi expand. Quindi facciamo così, salviamo, questo deve essere in maiuscolo però credo, sì, ok. Apriamo, ok, vedete? Quindi l'abbiamo fatto, espanso tutto sulla x. Vedete, lo stesso modo potremmo fare sulla y, oppure possiamo dire both. E in questo caso avremo un contenitore che occupa, vedete, tutta la nostra finestra. E cosa possiamo fare? Io vado a togliere questa cosa qua, giusto per farvi vedere, e voglio dimostrarvi come all'interno possiamo inserire dei widget. Alla fine il modo in cui usiamo i frame, altro non è che come dei contenitori, per dare ordine alla nostra applicazione e avere delle zone separate. Ripeto, come può essere qua a Visual Studio, vedete, abbiamo il container qui del menu con le icone, abbiamo il container dell'explorer, e dopodiché abbiamo il container dove lavoriamo, ma abbiamo anche questo container che è all'interno di questo container. Quindi abbiamo il container delle tab, vedete? Ma poi abbiamo anche questo container a scomparsa, che è il terminale. Quindi, vediamo un po', creiamo un bottone, perciò magari button1 è uguale a button, e anziché metter root, vi ricordate, a volte non mettevamo niente qua, mettevamo magari solo il text del bottone, in questo caso ciao. Vi ho detto che possiamo mettere root se vogliamo fare riferimento a questa finestra, ma adesso abbiamo un'altra opzione. Ovvero gli possiamo dire, guarda, è chiaramente dentro root, ma associamelo a frame1, per favore. Vedete? Così, in questo modo abbiamo che questo bottone è inserito dentro questo frame. Ci manca semplicemente di impacchettare il tutto, quindi pack così, ma andiamo a schermo. Ed ecco qua, vedete? Allora, nel momento in cui buttiamo dentro i widget, come vedete, i frame cominciano ad avere dei comportamenti anomali. Cioè questo rosso non lo vediamo solo perché c'è il padding, ormai vedete 10, 10 qua, 10 qua, 50, 50. Per quanto riguarda l'altezza e la width, se ne è completamente fregato, chiudo un attimo. Quindi il comportamento dei frame è un po' ostico da capire con dentro i widget, quando poi avremo più frame insieme diventa già un po' più semplice. Comunque avete visto che se lo ripeschiamo, il risultato, il bottone dentro al frame. Per far passare lo stesso concetto, proviamo a crearne multipli, quindi vorrei fare una cosa del genere. E abbiamo frame 1, frame 2 e frame 3. Copiamo la stessa cosa. Tac, tac. Voglio nascondere un attimo il bottone. E poi andiamo a mettere yellow e green. Benissimo. Salviamo. Vediamo il risultato. Ecco qua. Vedete? Abbiamo creato 3 frame diversi. In questo caso magari diamogli più lunghezza. Facciamo magari 400, 400, 400. Vediamo un po'. Eccoci qua. Abbiamo questo risultato. Oppure con pack, anche se non vi ho ancora spiegato tutto l'interno di pack, possiamo utilizzare, come abbiamo già visto, fill both. E poi expand true. Gli stiamo dicendo direttamente di prendere il più spazio possibile. Copiamo questo. Bam. Bam. Vediamo ancora. E come potete vedere abbiamo creato 3 frame di cui ognuno occupa la stessa altezza. Occupano un terzo, un terzo, un terzo, un terzo. Ma continuano a occuparlo a prescindere dalla grandezza della nostra finestra. Quindi vedete che è un comportamento responsive. Adesso andiamo a buttare dentro i bottoni. A prescindere da ciò che succede a livello di altezza del frame, eccetera. Al momento non ci interessa. Vi voglio appunto dimostrare come lo andiamo a dividere in sezioni. Perciò se vi faccio così e vado a creare altri due bottoni. E quindi vado a mettere bottone 2 e bottone 3. Qua mettiamo ciao, hello, connichiwa. Se si scriveva così non mi ricordo più. E andiamo a mettere bottone 2 e 3. Pack. Salviamo. Vediamo un po'. Al momento sono tutti, vedete? Dentro frame 1. Sono letteralmente dentro frame 1. Vedete? Pure possiamo andare a cambiare. Possiamo fare frame 2, frame 3. Benissimo. E guardate come automaticamente ci è bastato cambiare il parente dove vogliamo dentro il bottone. E i widget stanno lì dentro. Non c'è modo che io possa postarli. Quindi nel momento in cui voi andate a definire dei frame, state letteralmente dicendo guarda mi vai a creare dei contenitori all'interno della nostra applicazione in cui andiamo a gestire logicamente altri widget. Quello che abbiamo fatto qua è la stessa cosa che c'è su Visual Studio. Praticamente se dovessimo tradurre Visual Studio in TKinter. Visual Studio non è fatto in TKinter. Ma il concetto di gerarchia e organizzazione è esattamente lo stesso. Nessuno vi vieta poi di utilizzare i frame e di organizzare appunto con grid, che non abbiamo ancora visto, però vedete che questo è il concetto. Se non volete usare i frame normali potete anche usare i label frame. E i label frame vi danno la possibilità di aggiungere che cosa? Del testo. Quindi testo e noi scriviamo sono un label frame. Mettiamo qua la virgola, salviamo, mandiamo a schermo e vedete, non so quanto si vede bene, forse dovremmo cambiare il background in magari, magari meglio togliere il background a sto giro. Rivediamo. Perfetto, così si vede molto meglio. Vedete che nel label frame c'è un bordino con il titolo, se mettete il testo. Avete visto? Quindi abbiamo sia il frame normale, che è abbastanza un contenitore generico, ma abbiamo anche il label frame. Adesso cominciate probabilmente a farvi un'idea di come potreste impostare una piccola applicazioncina. Quindi un'applicazioncina che a prescindere dal suo contenuto venga divisa in zone logiche. Perfetto. Quindi direi che con i frame abbiamo finito. Voi continuate pure a giochicchiare e sperimentare e provare appunto magari a fare una sidebar laterale, un header di in alto, una zona di lavoro centrale. Nel prossimo video noi andiamo a vedere le combo box. Quindi direi che per oggi è tutto. Sotto in descrizione trovate il link al mio secondo canale, come sostenere questo canale e il mio sito. Io vi ringrazio, alla prossima. Ciao ciao! 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 Ciao!